Parliamo ora di economia e crisi perché il 2020 si configura come un anno di sostanziale paralisi della dinamicità imprenditoriale con un forte calo sia delle aperture sia delle chiusure d'impresa e il commento del presidente Dario Gallina. Questo emerge dai dati della nati mortalità imprenditoriale torinese nel 2020 presentati dalla Camera di Commercio. Andiamo a sentire tutti i particolari. La nati mortalità delle imprese torinese. Come ogni anno la Camera di Commercio di Torino presenta i dati di quante aziende siano nate e di quanti invece abbiano cessato la propria attività. Presidente, il 2020 com'è andato? Possiamo dire che è una situazione ingessata nel senso che ci sono state sia poche nuove aziende che poche cessazioni e come fosse che il 2020 l'indicatore sia andato un po' in letargo. Le aziende, effettivamente la crisi c'è, è battente, però non emerge dal tasso, ad esempio, di nati mortalità delle imprese. Quindi c'è un momento di attesa per capire che cosa fare. C'è anche il fatto di avere un'azienda aperta, di poter comunque avere anche dei ristori che sono stati programmati dal Governo. È una situazione da interpretare, però sicuramente siamo al minimo storico di tutti e due gli indicatori, sia della crescita che della decrescita delle imprese. Teniamo presente che però dal 2011 al 2018 abbiamo perso 18.000 imprese, quindi la crisi arriva ben più da lontano rispetto alla pandemia. Quali sono i numeri nei vari settori? Possiamo fare una fotografia? Fra i vari settori la cosa che emerge è che c'è un settore delle costruzioni che manifesta una certa reattività e questo è positivo perché è un settore che soffre da tanto tempo. Il calo dell'industria si conferma, il calo del commercio e invece la crescita, ma anche se moderata, dei servizi. Anzi, questo è un po' il quadro della situazione a livello settoriale. Non si aspettava questa situazione? Sinceramente no, nel senso che ci aspettavamo un riflesso più forte e quindi possiamo dire che il mondo delle imprese tiene, però è come se avessimo perso un anno e adesso bisogna ripartire velocemente, perché le aziende comunque hanno perso, fatturato, sono più indebitate e quindi ci aspettiamo una reattività anche su questi indicatori. Però il 2020, da questo punto di vista, ci dice solo che siamo stati praticamente fermi. Il 2021 sono per natura ottimista, nel senso che se impiegheremo bene i fondi europei, se sburocratizziamo e abbiamo delle politiche industriali che chiediamo da tanto tempo, credo, come lo testimoniano, le aziende che sono aperte oggi nel settore manufatturiero non tutte soffrono. Ci sono molte aziende che hanno ordinativi, che possono e sanno esportare, quindi è su quella strada che bisogna andare. Bisogna avere delle politiche ben precise e utilizzare gli ammortizzatori sociali bene per far ripartire le imprese e oltretutto gli investimenti e le politiche industriali molto precise.